Allora fine gara contro la Pro Patria, è andata decisamente bene oggi, nessun tie-breaking? No, infatti, iniziamo dal nostro libero, Monica è andata bene stavolta. Dovamo vincere, dovamo vincere 3-0, abbiamo vinto 3-0 bene, quindi tutto a posto, tutto a fare. La difficoltà Giulia in una partita così è quella di essere concentrati sempre, tu l'hai detto anche l'altro giorno, bisogna essere sempre pronti, tu oggi sei entrata, sei stata pronta, è andata bene? È andata bene, no sì, più che altro contro una squadra del genere giovane bisogna stare sempre attenti al fatto che comunque possono sempre risalire, metterci entusiasmo, grinta, però noi siamo state concentrate, abbiamo giocato bene, come ha detto il nostro allenatore è andata bene la battuta, fanno fatica la ricezione, quindi battendo bene abbiamo potuto difendere e rigiocare bene. Il merito a tutte è andata molto bene. Sì, ecco, infatti la difficoltà di una partita relativamente abbordabile è quella di restare concentrati, 3-7, tutto sommato l'avete fatto ragazzi. I passaggi sono andati bene. Si può andare a casa a vedere il festa di Sanremo, ancora siamo perfettamente in tempo. Ascettiamo gli altri risultati. No, però adesso l'importante è appunto vedere anche magari gli altri risultati. Giulia, chissà, una mano ce la possono dare anche l'avversario? Speriamo. Va bene, grazie e complimenti allora a Giulia Citterio e a Monica Acquistapaccia. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie, ciao.